È giunta l'ora di iniziare, da oggi si incominciano gli allenamenti, hai paura? Sì. E fai bene ad averla. No, in realtà oggi no, oggi è tutto tranquillo perché andremo a iniziare, lei è ferma da un sacco di tempo, quindi l'allenamento che andrei a fare sarà veramente un allenamento della terza età. Una pietra. Sì. Vatti a scaldare, vai. Sono ferma non da tanto, da tantissimo e ho mille casini, un sacco di male alle ginocchia, le anche che scricchiolano una tallonite pazzesca e sempre male qua la mia gobba. E ho veramente bisogno di trovare una quadra perché per noi tra un po' me ne danno 85 di anni. Quando una persona è ferma da tanto tempo la cosa migliore che si deve fare è quella di andare a attivare tutta la muscolatura andando a lavorare anche un po' sul cardio ma senza stressare troppo il fisico. Obiettivo uscire su dati ma senza aver creato traumi al fisico, soprattutto legato anche ai problemi che ha lei. Quindi non perdiamoci i discorsi e andiamo a darci dentro. Allora, com'è andata il primo allenamento, Gio? Bene, dai, è andata bene, pensavo peggio. Lei è super coordinata e questa è una cosa che va a suo vantaggio perché ovviamente tanti esercizi li faremo in maniera molto più veloce. Mi raccomando, fate il tifo per lei. Ragazzi, seguitemi, supportatemi, vi prego, fate il tifo per me. E nei commenti scriveteli un po' qualcosa di carino che la gasiamo, dai. Sì, gasatemi. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.